1, 2 e 3 e benvenuti al nuovo incredibile episodio di Road to Commander che è esattamente l'episodio, ho aspettato un attimo perché questo episodio tra l'altro non ci deve manco essere non intanto che ci sono, mi sto a portare avandissimo il 119esimo ci stiamo avvicinando a livello 55 ma se non mi ricordo male comunque dobbiamo terminare anche a livello 55 no? per poter arrivare al cacchio di Prestigiao dentro dentro MINGHIA non è vero per cadita le bugie mo può essere ecco scusa mo può essere aspetta aspetta va fangule va te la postazione in mano Cristiano Ronaldo via regarghiamo non ricordatevi fratelli peccato che non ci possono dare io di che la prossima è sua quindi bisogna andare da tutta altra parte ci vado subito ma va va mocte ah quanta gente fammi spu... eccala visto mi ha fatto spunnare su c perché la prossima è sua cioè di là kill c'è aveva zone amici miei dai 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 è là è là è là e c'è già uno che sta andando là va là mamma mia che kill a parte che non so manco che cazzo ho preso però vabbè no la monotov vaffanculo che cazzo ho preso non so capire ah sono già qua vale restaci te io vado sull'altro figliolo ecco se mi da una mano il gioco questo cazzo dai perché in una spustazione I am mamma mia come finisco da fare sto road tu commander solo su postazione gioco ah fanno i furbi anche loro eh complimenti una partita avvicendevole allora oh però capisco le partite avvicendevoli però capisco anche eh mo avete rotto cazzo proprio in maniera incredibile perché noi vi staniamo come dei prozzi adesso cioè così voilà che grande kill ma te ne vedete anche voi sta cazzo devastazione merda dobbiamo andare sull'altra ormai è persa questa anche no allora vediamo qua se c'è già il nostro amico fritz mi sa di sì e infatti complimenti bastardo schifoso è qui la prossima postazione individuata è ancora lì sopra può essere tisi morto oh sto qua sopra eh sotto sopra o sotto non capisco sopra dietro boh eh la prossima la prossima la prossima la prossima la prossima in macelleria andiamo mamma mia quando non corre sto vedentone non mi ammazzi vridillu perché c'è già quello là dentro sicuro al cento per cento via ho messo e mi metto qua eh 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 e io mi metto qua postazione in mano nostra bam vabbè dai vieni dentro dammi una mano sto ronzo io devo essere velozio a spostarmi e far scoppiare oila ok post fire basta che non ti metti vicino a me e dopo siamo John Willy dove è mostro da una merda aiuto c'è nessuno però non vanno avanti se questo tizio entrasse ok io potrei anche andare a muovermi e andare negli appartamenti eh sono già dentro sono già dentro fanculo uccidi uccidi grandi ma prendete la postazione amici giusto no sti cazzen anche in grande vantaggio però niente niente questa ha perso questa ha perso è inutile è inutile non ci vado più là no no mi metto già qua e vaffanculo che l'amico fritz qua ha capito tutto te do una mano tanto che ci siamo te frego fa anche qualcosa to tieni vecchi vecchi bravo fratello che tu hai capito tutto come zira il mondo quindi nostro quanti cosa ha trovato quello to no no e non ce l'avrà amici miei no no che non ce l'avrà tutti da là no non sprechiamo non sprechiamo le risorse sti gazzan ma son dentro no vabbè stiamo qua che al massimo ci facciamo due kill che fanno proprio schifo in questi giorni quindi e la puttana no questo lo voglio vedere non è stato esattamente proprio così come è successa la situazione non me la ricordo proprio sa tanto che ci la perdiamo perché se fanno come prima son già tutti su ci infatti il che tu vuoi fare un lancio di quelli potenti e proprio quando c'è la potenza potente tutto nostro qua dentro i grandi punti i grandi punti siamo qua andiamo fratelli che è tutta nostra questa amare mamma come nemici no non ci voleva questa fanculo voglio che ci stai dentro qua ok io mi muovo vado sulla prossima che sono i dini jar dai mai che tu vuoi fare ma vaffan cuba ma ammazzano sempre quelli però basta ma ammazzano sempre i cazzi di giardinieri fermo messo postazione magicamente in mano nostra yeah mi metto qua in modalità nemici no però e mamma se sto dentro sempre io dentro i nemici morti cazzo mamma mia bombardiere in zona per un attacco incendiario il nemico controlla la postazione ma magari uccide uno uno postazione in mano nemica troia oh un lancio magnifico mi diceva no un'incredibile vittoria non so se neanche se è la prima o la seconda questo di partita boh non saprei io sto qua a vendere salamelle aservigo sta della la vaffanculo dobbiamo penetrare immediatamente che ci mancano solo 6 dannatissimi punti come cazzo ho fatto non morì dai pushiamo pushy 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 victuar baby the king of postation non sbaglia mai faccio va tutto lì spiega mamma mia vediamo che il prossimo mapp partita ci sarà e vediamo voilà ci manca pochissimo a livello 55 poi non so se mi sono ammazzato con la vaffanculo ultimo appuntamento di anno 10 match a squadra antropoide mancare a me pochi punti sperano in vittoria per prendere punte bonus e andare avanti qui al livello 55 perché poi mi mancherà soltanto tutto un livello e finalmente avrò finito st'agonia ovviamente devo ringraziare tutti quelli che mi hanno visto perché no e devo ringraziare anche tutte le volte che ci sono stati doppi punti qua su call of duty che bene o male quasi tutte le settimane ci sono i doppi punti davvero una cosa incredibile proprio quanti cazzo di settimane e weekend più che altro con i doppi punti che ci stanno e giustamente quello là prima fa una strada poi becca quello muore via e moro pure io ma non eravamo mica in vantaggio ma ma va va un culo ma eravamo in vantaggio ma non è giusto qua manco in sto cazzo del video arrivo a livello 55 che stress stress passiamo di qua anche se non mi sei no no ma c'hai ragione se c'hai ragione eh almeno uno me lo sono portato nell'oltre tomba condomia bevete vanski o come cacchio si dice ecco ma chi sta sparando viano viano gianne gianno non lo so forse qua la carica shatkel in deathmatch non è che facci suo sporchissimo lavoro però rivederci vadi vadi ah non mi spieghi quando quella lì ha messo la cabal simbetti perché lo voglio anche capire diciamo oh la puttana che prontezza di riflessi però non me vi qua con la balinetta bello mio qua non me vi mi potevi ammazzare tranquillamente senza problemi con l'arma però un neutro sono io quello lì per terra e perché sono vivo dobbiamo fare uno strudo uno strudel uno strudel approfondito sulla legge del lord spawn perché se io ero quello la morto e sono passato ancora nello stesso punto e sono passato vicino alla mia carcassa ma che vuol di che cosa mi sta a significare passiamo di qua magari qualcuno che lo fa or giro tutti di qua no la tripla no però c'è la let trick ma va fan cool no vabbè passiamo di qua semmai facciamo zanage padre del giro qua sotto le si io non so ancora adesso cosa vuol dire qualcosa lì perché ovviamente non ancora non credo sia ancora arrivato l'episodio il primo episodio dove ho espressamente chiesto jump mortaggi 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 due dalla tuban su imbetti ma che sfica bravo bravo spariamo sti cazzo dei colpi bravo eh però c'è uno qua dietro eh perché c'è stava odeschio da guarda dov'è la madonna la macchina che esplote andiamo sempre in punti dove ci sono anche i nostri amici perché uno ci fottono due ci rubano le kill e tre si ammassano si ammassano sto perdendo l'uso delle parole con sto figa del ruolo ti comando zzzzz vi è c'è non c'è vi è c'è non c'è vi è c'è non c'è passo sotto qua non mi faccio io il problema soprattutto se siamo la madonna se siamo in leggero vantaggio no che non mai visto amico no no si che mi ha visto mi ha pure aspettato vabbè forse mi sa che ho visto una cosa che non dovevo vedere ecco perché è successo jump shot canno passo qua ci stanno sempre pieno demor sto con te dicevo che canno passo qua ci sta sempre pieno delle morti e una volta che muori demor ca miseria o altri meglio andare esattamente dove ci sono quelli là ok paura ma va vangu muorilo grande che mi ha fatto falastist ovviamente sempre anche quelli che camperano come i cinghiali perché passo io di qua non c'è mai nessuno non ci devo passare non ci devo passare non ci devo passare sparo alle auto no adesso dovete spiegarmelo progrediamo lancio di rifornimenti nemico non devono rifornirsi c'è sarà acqua madonna mia appena 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 nato ula la catturare l'approvvisonamento va là dopo inculiamo pure questo ma quello te lo lascia anche a te amico ci sono la madonna dai l'ultima con questo ah non posso perché ci sono i cannoni cazzi e ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto siamo a livello 55 l'ho appena visto l'ultimo ci manca soltanto uno stracacchio di livello e avremo finito questa serie e noi ci vediamo alla prossima con mille nuove avventure l'ultima 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 l'ultima